Ma dico io no? Dico io. Ma noi siamo capaci sempre puntualmente di fare 3 passi avanti, 12 passi indietro, 2 passi avanti, 4 passi indietro, 5 passi avanti, 73 passi indietro. Siamo sempre capaci di fare la stessa cosa. Se andate a vedere altri video che ho fatto in passato, queste parole porca zozza, sembro un pappagallo, ogni tanto me ne riesco che gli stessi video, io potrei prendere dei video che ho fatto e ripostarli puntualmente a cadenza mensile. Potrei fare così. Potrei fare così e non ho sbaglio. Perché puntualmente ricadiamo nei nostri stessi errori. Ieri abbiamo... Ah, io sono stato il primo, non so se mi seguite su Instagram, se non lo fate, fatelo. Romanisti d'Italia, ho postato un'immagine in cui si vede chiaramente il calcio dato da terra da Berardi verso Cumbulla e la reazione di Cumbulla con il calcio. Ok? Non voglio minimizzare assolutamente il rosso di Cumbulla che è sacrosanto perché in questa storia il deficiente è lui. Perché non è altro che un deficiente. Perché tu in una situazione del genere in cui stai perdendo non puoi lasciare pure la Roma con un uomo in meno. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Lui l'ha fatto. È un deficiente. Cumbulla è un deficiente. Lo ripeto. Non puoi. Non puoi fare una cosa del genere. Secondo me Mourinho, uno se l'è magnato, due, lui non vedrà più il campo di calcio da qua fino a quando rimarrà nella Roma. E lo spero. Lo spero vivamente. Vabbè, ma non ci possiamo attaccare su questa cosa. Semplicemente perché fino a quel momento noi dopo 18 minuti stavamo 2-0. Poi l'abbiamo ripresa con un tiro di Zaleski. Bello perché è voluto. Ma diciamoci le cose come stanno. È entrato in porta per rotta dei culo. Quindi non venite ma a dire che la Roma stava facendo schifo. Noi stavamo facendo letteralmente schifo fino a quel momento perché la Roma ha deciso di impostare una partita in maniera diversa proprio ieri. Proprio nel momento in cui dovevamo provare ad arrivare secondi in classifica, zona piena Champions League, la Roma va a fare Arachiri. La Roma ieri ha fatto Arachiri. Si è proprio presa. Perché tu non mi puoi andare. Io ho capito che ora c'è l'Europa League, poi c'è la Lazio. Però tu hai fatto una scelta. Cioè tu hai scelto di sacrificare questa partita nelle tre. Ovviamente può darsi che alla fine di tutto questo giro la soluzione sarebbe potuta essere una soluzione vincente. Anche sacrificare una partita. Ma tu ieri, sempre per colpa di Cumbulla, ti sei giocato anche il vantaggio che ti potevi portare a fare questo. Perché tu ieri hai dovuto fare il doppio della fatica di quello che avresti fatto comunque con una partita classica normale 11 contro 11. Perché tu ieri hai impostato una partita in modo diverso. Hai fatto riposare Mancini, eri costretto a non potevi far giocare Cristante perché è squalificato, non hai messo di bala, l'hai fatto riposare. Hai fatto una formazione nuova, nuova per la Roma. Perché hai fatto una formazione offensiva dove in difesa hai accettato l'uno contro uno. Dove hai detto ai due mediani di preoccuparsi maggiormente della fase offensiva. E non preoccuparsi della fase difensiva perché la Roma accettava il 3 contro 3. E la Roma non l'ha mai fatto questo perché la Roma ha sempre creato una barriera, una vera e propria barriera in difesa. E ha impostato il gioco sulle ripartenze. Mo ieri ha deciso di fare sta cosa perché in base agli uomini che aveva a disposizione, questo era il metodo migliore per ritirare un pochino il fiato e non andare con i giocatori spompati verso l'Europa League e verso il derby. Ma ieri Cumbulla ha fatto giocare una Roma in 10, una Roma che è stata presa dal... Perché io non capisco, no? Tutti quelli che dicono, e vabbè ma la Roma ieri ha fatto una partitona eccezionale, 11 contro 11 l'avremmo strapazzati. Oh, 11 contro 11, stavamo a perdere 2 a 0. Forse qualcuno se l'ha scordato, ne stavamo perdendo 2 a 0 nell'11 contro 11. Ieri la Roma ha tirato fuori l'orgoglio in 10 e ha tirato fuori quella riserva di energia che si sarebbe dovuta tenere per le prossime partite della settimana. Non è che la Roma ieri ha fatto quel tipo di partita perché la Roma ieri voleva fare quel tipo di partita. La Roma l'ha fatto perché in quel momento con uno stadio di 70.000 persone che ti spinge non puoi tirarti indietro. E l'ha fatto. Non ha fatto sentire l'inferiorità numerica la Roma. Ma questo è costato. E il prezzo lo vedremo nelle prossime partite. Se devo inventare qualcosa, Murigno. Perché nelle prossime partite noi vedremo il prezzo che abbiamo pagato ieri. Poi la cosa bella sapete qual è? Che negli ultimi due anni i maggiori interventi contro Pinto sono stati uno. Per il primo, forse qualcuno si ricorda qualche video di pseudo youtuberini che ci stanno in giro che rompono il cazzo eventualmente ogni decisione e poi si rimangiano tutto. Uno. Il rinnovo dei mancini. Vi ricordate il rinnovo dei mancini? Ma come si fa al rinnovo a mancini? Al prezzo dei... Non lo so. Ma come se può? Ma chi cazzo gli dà tutti sti soldi? Mancini. Cristante. Mamma mia, ma come si fa? Cristante è un cesso. Ma no, ma bene. Ieri non hanno giocato. Mancini e Cristante non si è capito niente. Non si è capito niente. Soprattutto la mancanza di Cristante ieri. Come si è sentita? Quei due, Cristante e Matic, ma soprattutto Cristante, dà quell'equilibrio che alla Roma serve. Anzi, dà quell'equilibrio su cui è impostato completamente il gioco della Roma. Il gioco della Roma è impostato su questi giocatori qui. E la Roma 2.0, quella Roma che da qualche partita a questa, a questa, fino all'altro ieri, ci ha dato soddisfazioni. È una Roma impostata con una difesa su Mancini. Perché Mancini è l'uomo in più che fa da sponda difesa, attacco, attacco, difesa, difesa, attacco. L'abbiamo visto culminato questo con il gol contro la Juve. Ma non è solo quello, perché ha fatto passaggio, ha fatto assist, ha fatto di tutte e di più Mancini. È stato impostato il gioco su questi due uomini. Uno che dà la profondità e l'altro che dà l'equilibrio. Cristante dà l'equilibrio alla squadra. Senza Cristante e Mancini ieri si è dovuto, Murigno, perché Murigno non è il modo di foto, si è inventato una Roma nuova, se l'ho dovuto inventare. Quindi, ricordatelo quando venite a vedere quei video dove voi le dite, ma come le fanno a dare tutti questi soldi a questi? Lo capisci perché? Lo capite perché danno tutti questi soldi a questi due? Perché hanno impostato una squadra su di loro. No? Se andiamo a fare a Chiri. Come si fa, oh? Come si fa? Come si fa? Ieri, poi, dobbiamo parlare dei giocatori? Dobbiamo parlare di come si sono... Io gli dite ieri salvo Rui Patricio, perché poverino, diciamo, dei quattro gol, non è colpevole, che poteva fare? E chi altro? Di Bala, di Bala, perché di Bala quando gioca è lumina. Di Bala è lumina. Ieri ha fatto quel gol da dove è uscito. Di sinistro, da sinistra, sul secondo palo. Come ha fatto? Non lo so. Comunque, a parte loro, zero. Zero assoluto. Zero. Ebram, posso dire una cosa? Tanto oggi è il giorno dopo della sconfitta, posso sfogarmi. Ebram ha rotto il cazzo. Ebram ha rotto il cazzo. Non può continuare. Questa è una stagione che lui si è solamente sbracciato. Se sbraccia e se lamenta, se lamenta e se sbraccia, se sbraccia e se lamenta. E daje però, su! E... Comincia a fare qualche gol, però. Ma io ti voglio bene. Come tutti noi tifosi della Roma. Ti vogliamo bene. L'anno scorso hai fatto tanto. E però, uh... E... C'è stato giocatori in passato che sono stati cacciati per molto meno, eh. E... Ti dovresti pure dare una svegliata. Se lamenta sempre. Se lamenta sempre. Gli fanno i passaggi. Guardate durante la partita. Ma non me la dovevi da là, ma dovevi da là. Ma non me la dovevi da giù, ma dovevi da su. Ma non me la dovevi da su. Ma non è che siete che sbagli i movimenti. No, per caso. Boh. E Sciarawi pure ieri. Ma si è visto quando è cominciata la partita. Io... Da quando ho letto la formazione. Avevo detto no. Porca troia no. Perché si vedeva. Cioè, la formazione è troppo rimaneggiata. Troppo. E lo sappiamo come finisce per la Roma. Quando tocchi così tanto la formazione. Già quando ne cambi uno ti dica che ha sotto. Pensa quando ne cambi tutti questi. Ma, comunque. Io quando è cominciata la partita ieri. Si è visto già Bove. Bove è un pesce fuor d'acqua. Bove mi dispiace eh. Per quanto, porca miseria. Per quanto sia romanista. Quanto sia tifoso. Però Bove ieri era buon pesce fuor d'acqua. È stato. Sempre ritardo sui palloni. Infatti il gol è partito da un errore suo. La difesa pure è inguardabile ieri. Cioè, sembrava che stavano a giocare sopra ai carboni ardenti. Stavano a giocare. Stavano proprio sul filo spinato. Oddio, 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 oddio. Non da qua, non da qua. Oddio, 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 oddio. Perché comunque una Roma non è abituata all'uno contro uno. Una Roma non ha mai giocato l'uno contro uno in difesa. La difesa è sempre stata forte perché è stata solida e perché è stata numerosa nella Roma. Dove hanno difeso in 15, porca cazzozza. È normale che l'uno contro uno si trovano... Oddio, qua come funziona? Non abbiamo uomini che possono fare l'uno contro uno. A parte Mancini. Mancini devo fare l'uno contro uno. Te sbatte per terra. Si chi mangia, Mancini? Ma... Cumbulla. Ma Cumbulla inciampa da solo, inciampa. Come va a fare l'uno contro uno? No, 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 no. No, 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 no. Ieri è stata tutta una partita storta. Tutta una partita storta. Secondo me è stata una partita dove è stata messa male la Roma in campo. Non ne capisco io, ovviamente non sono allenatore. Per carità, lo dico con i miei limiti. Ma è stata una partita dove la Roma è stata messa male. Semplicemente perché non è stata messa la Roma solita. E la Roma già ci ha messo due anni per riuscire a capire i schemi di questa formazione. Di sto gioco. Ma voi fanno tempo a capire che diamo una formazione nuova a questi. Eh, che sta a scherzare? No, non... Sono deluso, sono deluso. Perché come ho iniziato il video, ripeto, facciamo tre passi avanti e quattro passi indietro. Due passi avanti e cinque passi indietro. Sempre così, sempre così. Ogni volta che diciamo, oh, finalmente, finalmente si veda la Roma. Finalmente, boom, boom, capitombolo. Comunque, ripeto, quello che ho detto prima. Secondo me, il prezzo più alto che pagheremo dalla partita di ieri sarà la prossima partita. Perché ieri è stato fatto tutto ciò per far riposare alcuni giocatori. E questi giocatori non saranno riposati per la prossima partita. Questo è poco, ma sicuro. Speriamo in un altro colpo di dignità. Andiamo lì almeno, andiamo a difendere il risultato, sto 2-0. Speriamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.